Perché l'agricoltura è così centrale oggi nella vita di tutti noi, benché magari non ce lo chiediamo? Ci sono alcuni motivi importanti. Il primo è legato a quello che sta succedendo negli ultimi decenni, ovvero il fenomeno del cosiddetto consumo di suolo che sottrae via via spazi all'agricoltura e quindi anche alla produzione agricola. Il secondo motivo che ci dovrebbe spingere a interessarci dell'agricoltura e della sua tutela è legato al paesaggio. Il paesaggio agricolo è fondamentale nell'identità del nostro paese e quindi per conservarlo è necessario riflettere ed agire in termini critici all'interno della dimensione agricola. Infine l'agricoltura è il regno delle colture vegetali domesticate e quindi è il regno attuale della biodiversità. Questa parola che sentiamo ripetere spesso ma che poi per passare da una vera tutela deve passare da delle pratiche quotidiane. Ecco quindi che l'agricoltura è al centro della vita di ognuno di noi produttori e consumatori o se vogliamo cittadini. E oggi parleremo dei frutti della terra e quindi di frutta e di verdura. Partiamo dalle parole, da dove derivano frutta e verdura. La verdura deriva dal latino veridis, veridis è il colore verde ed ecco che subito ci compare davanti la brillantezza dell'armonia vegetale, la vita vegetale pulsante. Invece la frutta è un participio passato, fructus, fructus è il participio passato del verbo fruore. E cos'è questo verbo fruore? Significa godere e subito quindi ci richiama alla mente il fatto che la natura ci regala qualche cosa che ci dà piacere, ci dà piacere estetico in quello che vediamo ma ci dà anche piacere sensoriale diretto quando qualche cosa assaggiamo. Dove comincia la storia della frutta e della verdura? Naturalmente comincia in quel periodo che ribalta la storia dell'uomo oppure fa nascere qualcuno dice addirittura la storia dell'uomo che è il neolitico. Nel passaggio dal paleolitico al neolitico nasce quella che noi oggi conosciamo come agricoltura. Siamo a 10.000 anni fa. Dalla raccolta spontanea dei frutti della natura si passa alla cosiddetta domesticazione. Si selezionano quelle varietà più buone, più caloriche, più facili da coltivare ma questo processo dura a lungo circa 5.000 anni. 5.000 anni per avere finalmente a disposizione qualche cosa da far crescere nell'orto perché di questo stiamo parlando a quel tempo. La storia continua, va avanti e questi orti diventano anche splendidi giardini nell'antichità greca ma anche prima. I sumeri, gli egiziani coltivavano in piccoli spazi soprattutto alberi da frutto. Quando i traduttori della Bibbia dagli antichi testi ebraici e greci li devono trasporre in latino, nel tradurre uno dei testi più complessi e più difficili dell'Antico Testamento, il coelet, l'ecclesiaste, cercano una parola per definire quel luogo in cui si svolge la vicenda di Adamo e Eva. La cercano e la trovano in Persia, nell'antico persiano. Permidesi. Cos'è Permidesi? Quei giardini che aveva creato Ciro il Grande, prendendo nelle sue campagne di guerra le varietà delle frutte degli altri luoghi. Grandi giardini in cui coltivare questi diversi alberi da frutto. Permidesi, paradiso. Ecco come nasce il paradiso terrestre, mettendo insieme culture, lingue e diversi frutti della terra. Poi, ancora, andiamo avanti, l'antica Roma. Nell'antica Roma c'è una stragrande varietà di frutta e di verdura consumata quotidianamente. Era una dieta soprattutto vegetale, cereali, verdure, latticini, poca carne. Questa era l'antica dieta mediterranea che già esisteva. Ebbene, i romani consumano tante verdure, tra cui il cavolo, e anche frutte, anche frutte nuove. Lucullo, avrete sicuramente sentito parlare di lucullo, o quantomeno avrete ascoltato l'aggettivo luculliano. Pasti sontuosi, abbondanti e anche raffinati. Deriva proprio da lui, che era un gastronomo antelitteram. In realtà, di professione faceva il generale. E nelle sue campagne di guerra in giro per il mondo, soprattutto in Asia, portava ogni tanto a casa qualche cosa da provare a trapiantare per gustarselo a casa. Così arrivano le ciliegie, arrivano così in Italia, e anche le pesche, e anche i melograni, che arrivano da Cartagine, il malum punicum, le mele, dei cartaginesi. In questo momento abbiamo della valeriana, delle bietole coste, abbiamo dei cipollotti che saranno pronti all'incirca tra un mese, gli spinaci, lattughe, piselli, e fuori campo abbiamo delle verze, del cavolo riccio, del cavolo nero e dei cavolfiori. Utilizziamo i teli paciamanti, biodegradabili, perché noi seguiamo l'agricoltura biologica. Teniamo molto conto delle rotazioni e della stagionalità di quello che si vuole coltivare, in modo da garantire per tutto l'anno prodotti diversi all'interno delle cassette che vengono date ai fruitori all'interno del progetto. Oltre a coltivare i soliti ortaggi classici, pomodori, peperoni, melanzane e lattughe durante l'estate, si aggiungono tutta una serie di prodotti diversi che vanno dal cavolo riccio, alle senapi, alle mizzune, prodotti nuovi anche per il mercato, forse poco conosciuti, però che ci permettono di coltivarli anche in periodo autunnale, invernale e quindi avere una gamma maggiore di prodotti. Teniamo molto conto della situazione ambientale in cui siamo, una zona abbastanza umida, quindi dobbiamo stare attenti a controllare molto bene l'irrigazione, dobbiamo stare attenti alle temperature, tutto questo. Però adesso è ormai il secondo anno che stiamo sperimentando e anzi, senz'altro la situazione andrà migliorando, anche grazie alla sperimentazione e con i risultati che si riescono ad ottenere. La scelta dell'agricoltura biologica poi è stata fatta soprattutto per un problema legato sia all'ambiente che al discorso della salute. Il produrre biologicamente vuol dire garantire un prodotto esente da quegli inquinanti chimici. Non è detto che non ci siano in quanto l'ambiente milanese può essere già di per sé inquinato, però almeno evitiamo di aggiungerne noi. E poi il discorso dell'agricoltura biologica è quello di fornire un prodotto ricco di microelementi, micronutrienti che invece nella coltivazione tradizionali, dove si usano solo concimazioni chimiche, vengono molto spesso a mancare. E quindi anche dal punto di vista della salute vera e propria di ogni individuo diventa una cosa molto importante. L'agricoltura biologica è regolata da un regolamento europeo con poi delle aggiunte a livello nazionale. La nuova legge sul biologico è stata approvata settimana scorsa dal nostro Parlamento, quindi però sostanzialmente si rifà a quello che viene deciso a livello europeo. Cioè il biologico in Italia è uguale a quello di tutto il resto d'Europa. I principi base sono appunto quello di non utilizzare prodotti di sintesi in un modo più assoluto, di utilizzare sementi che provengono da agricoltura biologica, utilizzare sostanze organiche come concimazione, quindi niente concime chimico, salvaguardare l'ambiente nel suo complesso. Quindi anche il discorso della preparazione del terreno con la vangatrice rientra in questo, perché non vengono alterate le stratificazioni del terreno. Gli strati attivi sono superficiali e continuano a restare in superficie e quindi non si creano squilibri, non viene distrutta la microfauna e la microflora presente nel terreno. Oltre ai prodotti che poi possono essere utilizzati per difendere eventuali malattie, parassiti, animali o vegetali, eccetera, sono ovviamente quelli ammessi all'interno di questo regolamento, anche se si tende a utilizzarne sempre meno, cercando di non rompere gli equilibri naturali, perché in natura gli equilibri si ricostituiscono, se ci sono delle prede ci sono anche dei predatori, eccetera, e questo avviene anche a livello di parassiti che possono attaccare le piante. L'esempio classico è il solito che si fa con gli afidi, poi ci sono le coccinelle. Anzi, qui c'è stato un bellissimo esempio l'anno scorso, in cui Simone mi dice, no, qui dobbiamo eliminare la coltura dei peperoni perché è infestata da afidi. Un controllo ravvicinato, dico, no, vedi che ci sono già larve di coccinelle, fra 15 giorni queste piante si riprenderanno completamente, così è stato, e fino a ottobre si è continuato a raccogliere peperoni, proprio senza nessun intervento. E questo proprio se si riesce a ristabilire l'equilibrio. Molto spesso in agricoltura, gli agricoltori hanno paura di non riuscire a combattere il parassite e quindi intervengono subito. Quello che bisogna avere è questo coraggio, aspettiamo, vediamo che cosa succede e molto spesso appunto l'attendere, la natura sa reagire molto bene. Un'altra cosa che vogliamo sperimentare, appunto all'interno dell'agricoltura biologica e che sperimenteremo anche qui, sarà quello di l'utilizzo di funghi antagonisti per prevenire determinate malattie, oltre all'uso di batteri e così via. Molto importante è la presenza di micorizze. In ambienti, diciamo, incontaminati le micorizze sono sempre presenti. Le micorizze sono dei funghi, sì, funghi che vivono in simbiosi sulle radici delle piante e che il micelio crea praticamente una rete molto estesa nel suolo e che trasmette informazioni da una pianta all'altra. E la caratteristica delle micorizze è quello di facilitare l'assorbimento dei sali minerali da parte delle piante e ottenere in cambio dalle piante gli zuccheri in quanto i funghi, non facendo sintesi clorofiliana, non producono zuccheri e quindi ricevono nutrimento dalle piante con cui vivono in simbiosi dando in cambio questo aiuto. Tutto quello che noi sperimentiamo e vediamo in campo lo vediamo di trasmetterlo a chi si occupa di queste cose e viceversa quando all'interno delle università o degli istituti agrari vengono sperimentate cose nuove, arrivano a noi come informazione per a nostra volta fare dell'esperimentazione e verificare se ciò che è stato scoperto o si sta studiando è applicabile anche in campo. 1492, data storica, storicissima, la nascita della storia moderna, la scoperta dell'America, qualcuno ha detto conquista, qualcun'altro invasione. Ebbene da là, da quelle nuove terre in cui Cristoforo Colombo porta le sue caravelle e con cui poi arrivano altre caravelle con i cosiddetti conquistadores ecco, in Europa arrivano nuove varietà vegetali e lì si cambia, cambia totalmente il panorama della frutta e della verdura i pomodori, le patate, i fagioli, poi più tardi anche gli avogadi e molte altre varietà. Cambia il panorama, cambia il panorama anche estetico e mano a mano arriviamo a Rinascimento, il momento in cui l'uomo è al centro della scena storica e culturale. Ecco, tutte le opere d'arte, soprattutto figurative, di Rinascimento portano al proprio interno in maniera veramente importante l'elemento vegetale, quindi le frutte, le verdure o anche semplicemente la natura. Era il desiderio dell'uomo di conoscere e anche dominare quella natura. Ecco, nel Rinascimento nascono per esempio le orangerie in Francia in realtà erano le orangerie italiane, cioè questi giardini chiusi in cui appunto coltivare varie varietà di frutta. E poi, e poi naturalmente il paesaggio, il paesaggio che proprio in questi anni dal Medioevo in poi comincia ad avere segno concreto dell'uomo rusticus cioè dell'uomo agricolo, colui che in qualche maniera entra in simbiosi con la natura e il fenomeno della domesticazione diventa una produzione un pochino più a disposizione dei mercati. Nascono in questo momento in mercati anche delle frutte, delle verdure intesi come spostamenti di merce. Ecco che il paesaggio, il paesaggio è quello stesso che ancora sopravvive in parte nel nostro paese. I terrazzamenti, l'agricoltura fatta in piccoli appezzamenti che mescola la domesticazione con l'elemento naturale quindi appunto, dicevo, la simbiosi. Questo paesaggio è arrivato in parte intatto fino alla fine dell'Ottocento in cui c'è la nascita della prima, diciamo, chiamiamola così, agricoltura industriale. Non c'era ancora l'industria. L'industria agricola arriverà ben dopo, arriverà nel secondo dopoguerra del Novecento con l'agricoltura intensiva e lì muta radicalmente il paesaggio agricolo. Spariscono i filari di alberi che dividono piccoli campicelli da altre proprietà. Sparisce l'elemento vegetale, per esempio, all'interno dei vigneti e anche la vite che si arrampica. Sparisce completamente tutto quello che in qualche maniera di più selvatico sopravviveva ancora all'interno del modello agricolo. Ma fortunatamente oggi c'è una nuova sensibilità che guarda al paesaggio agricolo come possibile nuova risorsa per un turismo critico, intelligente e sensibile. L'esperienza della cooperativa Madre Terra nasce per offrire degli spazi di formazione ed inserimento lavorativo a minori stranieri non accompagnati che sono ospiti nelle comunità minori dell'Inter la milanese del pavese sotto il cappello di Don Massimo Mapelli e della sua associazione Ucapte una casa anche per te. Quindi si è voluto sfruttare il tema dell'agricoltura sociale proprio per dare una formazione anche dal punto di vista semplicemente del rapporto lavorativo perché non necessariamente tutti i ragazzi poi faranno gli agricoltori ma una formazione che preveda la puntualità, il senso di responsabilità, saper leggere la busta paga tutti questi aspetti che sono formativi in un contesto lavorativo di agricoltura sociale. Poi già che si fa agricoltura sociale l'idea è quella di farla bene per cui è entrato il tema del biologico, del mangiare bene, dell'educazione alla stagionalità. E da un anno e mezzo è nata questa esperienza a livello di distretto, di economia solidale del Parco Sud, di una stretta collaborazione con dei gruppi di acquisto solidale che poi si sono organizzati in una MAP. La MAP è un'associazione per il mantenimento dell'agricoltura paesana, un'associazione molto sviluppata, un tipo di associazione molto sviluppata in Francia che in Italia ha forse con noi l'unica esistente. Sono praticamente, come diceva Luigi, una serie di famiglie in genere organizzate in gruppi di acquisto solidali che hanno scelto di collaborare con Madre Terra impegnandosi con degli acquisti preventivi che vanno dai due ai sei mesi dei prodotti della terra coltivata a Rozzano. Questo per garantire un incasso sicuro alla cooperativa Madre Terra e allo stesso tempo per garantirsi dei prodotti sani nel rispetto della stagionalità coltivati nel rispetto dell'ambiente con criteri biologici. L'anno scorso abbiamo sperimentato la Cleitonia o l'attuga dei minatori, cioè quindi una pianta nuova originaria degli Appalacchi, Stati Uniti così chiamata perché veniva utilizzata dai cercatori d'oro e dai cacciatori eccetera per combattere lo scorbutto e stando lontano da città e luoghi per diversi mesi questa pianta spontanea veniva utilizzata, appunto consumata cruda. è un'ottima insalata da mangiare anche se è una, non è una, come dire, non è una composita ma è una portulaca, quindi pianta completamente diversa ma che cresce bene durante l'inverno. Altre cose che abbiamo sperimentato quest'anno molto bene sono le mizune appunto, mizuna, mibuna, talsoi, pak choi sì, il pak choi è stato introdotto già diversi anni fa invece le mizune sarà sì e no una decina d'anni che si utilizzano qui da noi anche queste sono appunto piante originarie dell'Asia vengono chiamate brassiche minori perché sono tutte piante annuali con un periodo di crescita breve che crescono bene durante, soprattutto anche queste con climi più freschi eccetera quindi autunno e primavera anzi verranno piantate ancora prossimamente no? sì per quanto riguarda invece la concimazione noi utilizziamo soprattutto uno stallatico e abbiamo un contadino che ci porta del cippato che lasciamo maturare per circa uno o due anni e dopodiché andiamo a stendere in campo quindi noi utilizziamo soprattutto appunto residui diciamo vegetali, animali e di potature vedi che sono parecchie dove sono singole sono già belle grosse le cipolle stanno benissimo ma quando pensi che siano pronti? allora hanno bisogno di caldo adesso hanno bisogno che ci vorrebbero temperature di 20 gradi perché allora ingrossano velocemente tanto poi consume come cipolla fresca di solito metà marzo succede quest'anno i 20 gradi invece lo spinaccio può crescere ancora un po' sì lo spinaccio niente vedo che lo stai tagliando potresti fare forse un altro taglio prima del problema è che se appunto se le temperature si alzano molto ti va in fiore ecco tieni presente che la barese è sensibile al caldo perché viene coltivata generalmente nel periodo i più freschi giù al sud qui da noi rischia di andare in seme velocemente quindi se devi non aspettare che diventi enorme quando vedi che ma la tagliamo o la tiriamo via dalla radice e rimettiamo piante nuove? un'altra cosa ti volevo chiedere per quanto riguarda invece di rimettere la vernice per abbassare le temperature lo facciamo anche quest'anno sempre nel periodo giugno, luglio peperone, pomodoro e melanzana ok per le altre culture non è indispensabile perché l'anno scorso abbiamo diciamo verniciato con una con una vernice apposta la serra per diminuire diciamo l'impatto del sole sulle culture abbassare soprattutto nei giorni più caldi quindi luglio, agosto la temperatura interna della serra giornalmente durante il periodo di massima luce di massima luce di 4-5 gradi che permettono di una fecondazione sì perché piante pomodori peperoni melanzane perdono i fiori con temperature superiori ai 33 gradi vent'anni fa i 33 gradi era difficile raggiungerli oggigiorno invece è una cosa normale quasi quotidiana in certi periodi dell'anno e quindi bisogna per forza intervenire a ridurla o con reti o in questo caso è stata scelta l'uso di vernici per abbassare appunto la temperatura interna quando parliamo di sud del mondo ci riferiamo a paesi in Africa America Latina Asia le cui popolazioni vivono una situazione economica sociale svantaggiata rispetto al cosiddetto nord del mondo questa situazione di svantaggio ha favorito negli anni delle pratiche di sfruttamento da parte soprattutto di imprese del nord che hanno deciso di investire in questi paesi per motivi prettamente economici per una manodopera a costo inferiore e anche per regolamentazioni molto più leggere riguardo alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'ambiente i diritti dei lavoratori in questi paesi sono spesso calpestati dalle logiche della massimizzazione del profitto di queste aziende lavoratori che non possono associarsi a livello sindacale per far valere i propri diritti e addirittura sono tuttora presenti casi di sparizioni rapimenti torture addirittura assassini dei sindacati di sindacalisti locali negli anni è nata una nuova sensibilità una voglia di cambiare le carte in tavola e di creare un'economia diversa che superi questo concetto di sfruttamento da qui è nato il commercio equo il commercio equo si basa su dei cardini molto precisi che spaziano da una giusta retribuzione dei lavoratori a un giusto prezzo nei confronti dei produttori un prezzo che si mantiene stabile durante tutto l'anno a prescindere da quelle che sono le flutuzioni del mercato molto importante è anche l'assicurazione sulla sicurezza dei lavoratori che come detto prima non viene spesso presa in considerazione in queste zone del mondo si cerca anche attraverso il commercio equo di sviluppare quelle che sono le competenze manageriali e imprenditoriali dei produttori quindi non si vuole solo aiutarli da un punto di vista economico ma si cerca di farli crescere e farli diventare totalmente indipendenti il commercio equo che negli anni 80 e 90 veniva promosso come nicchia localmente e quasi in maniera domestica è ora presente in tutte le regioni d'Italia a livello molto capillare grazie alle botteghe del mondo altromercato che lo diffondono sia come prodotti sia come sensibilità sui temi ed è inoltre riuscito ad arrivare anche a quelli che sono i banchi di molte insegne della grande distribuzione questo è segno evidente che la volontà anche nel nostro paese di superare le logiche dello sfruttamento è sempre più presente nel 2004 Altromercato che è la principale centrale di importazione per il commercio equo in Italia ha deciso di unire le forze con Agrofair Olanda che è a sua volta la principale importatrice di ortofrutta ecosolidale in Europa creando una nuova società CTM Agrofair il ruolo di CTM Agrofair è quello di importare prodotti ortofrutticoli ecosolidali frutta esotica ma principalmente banane Altromercato sceglie di commercializzare banane biologiche o dove il produttore non riesce a certificarsi banane all'otta integrata quindi con un uso molto restretto di pesticidi il sud del mondo è presente però anche in Italia anche se in maniera invisibile ai nostri occhi perché non tutti conoscono il fenomeno del caporalato per caporalato si tende una forma di sfruttamento lavorativa in cui ci sono intermediazioni illegali sulla organizzazione e sul reclutamento della mano d'opera anche in questo caso Altromercato ha deciso di fare qualcosa per superare queste logiche e nel 2010 ha aperto una nuova linea di domestic fair trade di nome Solidale Italiano all'interno di Solidale Italiano confluiscono prodotti ortofrutticoli biologici coltivati da cooperative di piccoli produttori in varie regioni d'Italia questi piccoli produttori si impegnano a operare nella piena legalità contrastando attivamente la logica del caporalato e consentendo ai propri lavoratori un inserimento non solo lavorativo ma anche sociale oggi il commercio equo è regolato da dei principi cardine che includono la trasparenza in relazioni commerciali a lungo termine il pagamento di un prezzo equo è stabile al produttore che non subisce le fluttuazioni del prezzo di mercato l'assenza di ogni tipo di sfruttamento della mano d'opera e di lavoro minorile l'uguaglianza di genere all'interno delle strutture coinvolte la garanzia di buone condizioni di lavoro anche in relazione alla sicurezza l'impegno a sviluppare le competenze manageriali e produttive dei piccoli produttori il rispetto dell'ambiente nelle aree di produzione favorendo ovvero possibile la coltivazione biologica siamo a milano in corso l'odiventi in una bottega altromercato questo negozio è uno dei negozi gestiti dalla cooperativa Cicomendes che è presente sul territorio lombardo da oltre 30 anni Cicomendes è una cooperativa che è socia del consorzio altromercato e che a sua volta conta oltre 4.000 soci nei nostri negozi nei negozi altromercato come quello dove ci troviamo oggi ci sono prodotti del commercio ecosolidale di filiera corta biologici e anche del territorio prodotti confezionati e freschi e spicca tutta la proposta di ortofrutta biologica e fair trade quindi ecosolidale sia italiana del solidale italiano che esotica quindi proveniente dal sud del mondo tutti questi prodotti sono certificati biologici sono da filiera etica trasparente e controllata e sono a marchio altromercato storicamente nelle botteghe altromercato erano presenti all'inizio diciamo di questa esperienza erano presenti prodotti soprattutto confezionati provenienti dal sud del mondo negli anni invece è nato questo progetto solidale italiano che valorizza prodotti e produttori del nostro territorio che sono controllati e sono diciamo integrati nella nostra proposta perché seguono dei metodi di coltivazione e di produzione che rispecchiano i principi del commercio ecosolidale quindi sono tutti produttori che realizzano i propri prodotti nel totale rispetto delle persone dell'ambiente e del territorio questo ha riscontrato sulla diciamo nella città nei nostri clienti un grande interesse perché non offriamo soltanto prodotti storicamente del commercio eco come tè caffè cioccolato ma anche prodotti di uso quotidiano quindi biscotti ma anche prodotti freschi come appunto la frutta la verdura il latte il formaggio e via dicendo questo chiaramente dà alle persone la possibilità di fare una spesa dalla colazione alla cena totalmente etica sostenibile e soprattutto con prodotti di qualità che rispettano diciamo i principi del commercio ecosolidale e quindi rispetto anche ad altre realtà presenti in città che magari offrono dei prodotti biologici qua si può trovare un valore in più che è quello della sostenibilità anche sociale nell'onda dell'illuminismo e del positivismo e della nuova volontà di classificazione della natura nasce anche il desiderio nel mondo culturale e scientifico di classificare le specie vegetali all'interno di questo percorso viene alla luce una nuova disciplina la pomologia artificiale si tratta di professionisti che si dedicano proprio a creare attraverso materiali il cui il materiale principale è la cera dei modellini che in qualche maniera rappresentino le varietà presenti sul territorio coltivate commercializzate ebbene succede questo anche in Lombardia Francesco Garnier Valletti è uno di questi pomologi molto stimato la società orticola di Lombardia nel 1871 gli commissiona uno studio e la realizzazione di modellini di frutti presenti sul territorio lombardo a quell'epoca ne viene fuori una collezione oserei dire sconfinata se guardata con gli occhi di oggi e con le poche varietà che ci restano in produzione al giorno d'oggi nel 1998 l'università degli studi di Milano pubblica un catalogo che rappresenta la collezione di Francesco Garnier Valletti che rappresentava le varietà di frutta presenti sul territorio Lombardo alla fine dell'Ottocento Attilio Scienza ampelografo e nome importante del panorama enologico italiano regala a Luigi Veronelli il più grande critico gastronomico ed enologico del Novecento e sicuramente colui che fondò questa disciplina regala questo libro Veronelli lo guarda estasiato lo legge ne è entusiasta e ne scrive 37 albicocche 3 azeruole 42 ciliegie due corniole una cotogna un fico una giuggiola una mandorla due melograni 190 diverse varietà di mela una nocciola due nespole ben 309 cultivar di pera 104 di pesca una sorba 49 varietà di susina continua è un libro ahimè certo costoso che vorrei fosse adottato in tutte le scuole italiane per mettere in evidenza la ricchezza del nostro patrimonio vegetale servirebbe a farci comprendere la tragedia di quel che abbiamo perso e della necessità di dire basta quei frutti non sono andati persi più per fortuna che per cura e vanno reimpiantati e assistiti che per cura